Capaccio Pessum, grande successo per l'incontro con esperti di comunicazione nella relazione di aiuto. Sabato 3 dicembre 2022 alle ore 18 presso la sala erica di Capaccio Pessum si è tenuto il convegno la comunicazione nella relazione di aiuto, rivolto a genitori, sociologi, psicologi, pedagogisti, assistenti sociali, educatori, insegnanti, operatori del terzo settore, giornalisti. La manifestazione è stata organizzata dalla cooperativa sociale Vola Alto di Battipaglia in collaborazione con l'attestata giornalistica Il Sole e le Nuvole, patrocinato dalla città di Capaccio Pessum, dal comune di Rocca d'Aspite, dalla città di Battipaglia e dal comune di Aquara. Dopo l'introduzione del presidente di Vola Alto ed editore del Sole e le Nuvole, Maria Carmela Morra, e i saluti istituzionali della vice sindaca del comune di Capaccio Pessum, Maria Antonietta Di Filippo, del sindaco di Rocca d'Aspite Gabriele Iuliano e del sindaco di Aquara Antonio Marino sono stati affrontati temi legati al convegno, a partire dall'empatia e dall'ascolto. Ad occuparsene è stata la psicologa, poetessa e formatrice PNL Gabriella Bellissimo.